C'è un abito tradizionale conosciuto nella città di Tlemcen, nell'estremo ovest dell'Algeria. La sposa la adorna il giorno del suo matrimonio. Il peso di questo vestito raggiunge i 15 kg, perché tempistato da molte gioielli e recamato con filo d'oro. L'abito da sposa algerino è considerato l'abito buonuzioso tra i costumi tradizionali e per il suo valore artistico, esticico e storico. L'unico lo ha classificato nel patrimonio comune dell'umanità. I rosocontini dividivano sul motivo per cui questo vestito è chiamato scinta. Tra colori che dicono che il motivo è perché i gioielli e i gioielli interessiati con esso gli conferiscono una forte ricettezza e per questo è stato chiamato scinta. Mentre altri confermano che la vera ragione di questo nome è che i suoi figli e i gioielli sono stretti coerenti con qualche. Ma la narrazione più comune è che è considerato una prova della pazienza della sposa durante la sua prima notte ai genocci portando questo ingiunimento che pesa più di 15 kg da quando ha lasciato la casa della sua famiglia a casa del marito. Nonostante tutte queste diverse narrazioni, la servita tanciniana e ancora tre abici tradizionali algerini più famosi russi.